5 sinistra 3, per destra 3 30 sinistra tornante destro apre tornante destro apre 30 sinistra 3, tieni 3, tieni in ritarda, destra 3 più 50 tornante sinistro largo 50 destra piena, 50 sinistra piena, 50 destra piena, in sinistra piena 100 a vista al rosso destra 5, 150 ai legni sinistra 4, tieni legni, sinistra 4, tieni in destra 3, meno chiude 3, meno chiude, dopo 100 in sinistra 3, tieni in destra 3, apre 100 sinistra 3, più tieni 3, più tieni in destra 4, due tempi in sinistra 4, chiude 3, meno 4, chiude 3, meno dopo 100 sinistra 5, lunga 150 al muro tornante destro 150 destra piena 100 destra piena 50 attenzione attenzione saffi finita sinistra 4, chiude tornante sinistro attenzione sacrificala in destra 4 piena 100 tornante destro 50 sinistra 2, meno 2, meno apre 2, meno apre in destra 4, lunga 20 4, lunga 20 destra 3 in sinistra e subito destra 90 gradi sale 50 si entra nel brutto eh sinistra 4 cieca in sinistra 4 scende 20 sinistra 3, più e subito destra 2 lunga taglia 2, lunga taglia in sinistra 3 apre meno sporca 3 apre meno sporca eh 200 a pista finirete sinistra 3 20 finirete sinistra 3 eh 20 sinistra piena 20 destra 2 aggancia aggancia questa 50 destra 4 taglia in ritardo sinistra 4 chiude 3 taglia 4 chiude 3 taglia attenzione 20 destra 4 taglia 50 attenzione tornante destro taglia tornante destro taglia 50 tornante sinistro largo 30 sinistra 3 più taglia 50 destra 3 lunga taglia 30 lunga taglia 30 sinistra 4 in destra 4 taglia 30 destra 4 taglia in sinistra piena 50 destri chicane entra sinistra 3 scambi sinistra 4 ritarda molto in inversione sinistra bene destra piena 20 sinistra 4 taglia 150 vista sinistra 5 in destra 4 più 100 a pista sinistra 5 lunga in ritarda destra 4 in ritarda sinistra 4 meno lunga chiude 3 al rosso 4 meno chiude 3 al rosso 20 destra 3 meno taglia in sinistra 3 20 sinistra piena in destra piena taglia 50 alla legna ritarda sinistra 3 sinistra 3 in destra 4 taglia 20 destra 3 taglia 50 in sinistra in sinistra 3 più lunga 20 destra 2 più 2 più dopo 50 sinistra 2 più chiude 2 più chiude 50 sinistri destra destra 3 taglia 50 sinistra 3 apre 30 destra 2 più sporca 2 più sporca 30 sinistra 4 30 sinistra 3 sporca 20 destra 3 lunga taglia 3 lunga taglia 20 sinistra 3 più 2 tempi 20 destra 3 taglia 30 ritarda sinistra 4 50 sinistra piena e subito destra 3 meno taglia 3 meno taglia dopo in sinistra apre 150 sinistri destra 4 attenzione no in sinistra 4 2 tempi in destra 4 taglia 50 sinistra 5 50 sinistra 5 in destra 5 in sinistra 3 tieni in destra 3 taglia 150 sinistra 4 taglia 100 suddosso subito destra 3 molto sporca taglia 4 in sinistra 4 20 ritarda destra 4 taglia in sinistra 4 corta 20 sinistra 3 in ritarda destra 4 più le 3 destra 4 più le 3 dopo 30 destra 4 taglia 150 sinistri al palo destra 4 taglia al palo destra 4 taglia 30 sinistra 5 50 sinistra 3 più 30 3 più 30 destra 3 150 a vista attenzione al box stacca stacca chicane entra sinistra 3 scambi box stacca 20 inversione sinistra in sinistra 4 20 destra 5 lunga 20 sinistra sinistra chiude al secondo palo 3 meno 20 sinistra 4 in destra 4 10 sinistra piena 30 inversione destra 50 50 50 destra 4 in sinistra 3 tieni in destra 3 apre 20 sinistra 4 al cartello destra 2 al cartello destra 2 30 destra piena 20 sinistra 5 subito sinistra 3 100 subito sinistra 3 la 100 destra 2 più 2 più 20 ritarda sinistra 3 più 2 tempi 150 ritarda destra 3 chiude 50 al re sinistra 3 in sinistra 4 e dopo 4 in sinistra 4 tieni e subito destra 2 meno chiude 20 sinistra 2 50 destri destra 3 tieni in sinistra 3 meno 10 destra 3 apre 20 destra in sinistra 3 meno e subito destra piena 30 destra 3 meno chiude 30 sinistra 3 30 sinistra 4 2 tempi e subito attenzione tornante sinistro tornante sinistro dopo 20 destra 4 30 tornante destro 50 sinistra piena attenzione tornante sinistro tornante sinistro qua 30 destra 4 e subito tornante destro 20 sinistra piena 20 destra 3 corta in destra 3 meno 20 sinistra 2 più 2 più 20 destra 3 meno 100 a vista destra 4 fidati 50 tornante sinistro fine 1 2 2 1 2 2 2 3 3